Certe volte nella vita arriva quel momento in cui devi cambiare, in cui devi fare qualcosa per prendere in mano una situazione che ti sta sfuggendo di mano Questo cosa vuol dire? Un cazzo vuol dire che questo è il video in cui vi dico la programmazione che ho deciso di dare al canale Sì a clickbait A parte gli scarsi ragazzi, quest'oggi sono qui per fare un video in cui voglio cercare di dare una programmazione un attimino più netta al canale Finora la nuova era è stata piena di video quando potevo, il giovedì, a volte il mercoledì, a volte il venerdì, a volte sabato, domenica Ho fatto tutti i giorni praticamente Invece da oggi, e non so quanto riuscirò a tenere fede a questo mio proposito, ma da oggi cercherò di fare dei video secondo un programma rigoroso che mi sono scritto sul telefono Già non me lo ricordo, figuratevi Allora come avete visto e come vi avevo già annunciato in un altro video, ho iniziato a portare più video gameplay Non gameplay tradizionali, sia chiaro, non sarebbe nel mio stile, ma comunque qualcosa che concerne prettamente il videogioco nella sua dimensione giocabile Che frase E dunque sappiate che la settimana di programmazione di video inizierà il mercoledì Voi vi chiederete perché questi giorni e non altri Perché gli altri giorni caricava Pokémon Millennium Che mi ruba la gente Ciao Saido Dicevo il mercoledì uscirà un video gameplay, ora video gameplay cosa vuol dire? Vuol dire tantissime cose Principalmente per il momento mi aggirerò attorno a tre titoli Che sono sostanzialmente Pokémon Let's Go Pikachu Let's Go Eevee Su cui ho già annunciato su Instagram, mezzo annunciato per la verità Ho in mente una serie molto particolare che è un remake di una serie vecchissima, non ve la ricordate Vecchissima di qualche anno fa Poi Super Smash Bros Ultimate con dei contenuti che devo ancora pensare Ma ho già in mente di registrare dei video con delle persone particolari E infine Dulcis in fundo, come avete visto questo mercoledì, cioè credo due giorni fa È uscito Mario Kart e quindi il terzo titolo sarà Mario Kart Che è quello, fra parentesi, su cui ho più idee nel mondo Cioè ho più idee su quello che su altre cose Oltre a questi tre giochi chiaramente non escludo la possibilità di portare qualche altro gameplay Qualche altro gioco, insomma il mondo dei videogiochi è vasto Non si smette mai di imparare, quindi chissà che cosa potrei portare Ho in mente vari video, quindi stay tuned mi raccomando Ah tra l'altro non so se avete notato, se avete notato il microfono in mezzo a me Ho cambiato un attimino il settaggio, mi sono messo il tavolino qui Così almeno ho potuto spostare dei mobili in bagno Insomma sono cose che non vi interessano Sappiate che adesso ci sarà questa presenza Che detto così non è proprio il massimo A parte per mercoledì gli altri giorni di caricamento In cui caricherò video classici, quindi concept analysis Quindi teorie pokemon, quindi video speciali, perché no Insomma tutte queste cose qui saranno il venerdì Madonna che voce Il venerdì dicevo alle 17.30 L'ho detto prima all'orario di mercoledì Nel caso anche mercoledì è 17.30 E oltre al venerdì abbiamo anche la domenica Che è il mio giorno classico di caricamento In cui però caricherò alle 11.30 Perché questi orari e non altri? Perché negli altri orari carica pokemon millennium Allora è vero in parte questa cosa Nel senso che gli orari li ho stabiliti Per far sì di non andare a intralciarmi Con altri youtuber, magari anche i miei amici Che poi ci rubiamo la gente Ed è brutto, quindi per darvi anche a voi Più possibilità di vedere più contenuti In differenti orari Facciamo quest'orario qua Ci scostiamo e non rompiamo i coglioni Detto ciò L'ultimissima cosa che volevo dirvi Oltre al fatto che sappiate Ma questo ovviamente è ovvio Sto pensando un sacco di video La mia testa sta friggendo E quindi tenetevi pronti Ma a parte questa cosa Vi dicevo Ne ho un'altra da dirvi Questa cosa riguarda Frettamente i video classici Nel senso che Ovviamente i video classici Lo sappiamo tutti Possono essere video molto seri Come le team reversed Come le teorie Possono essere video Un attimino più tranquilli Come può essere Il baretto di Creepy Che è un nuovo format Che sostituirà il circolo di Luminopoli Che ha sostituito il caffè di Luminopoli Eliminiamo questa cosa Del caffè dei circoli Perché mi confondo Non ce la faccio D'ora in poi La chiameremo Baretto di Creepy Comunque ci sono questi video qua Anche le team reversed Da volendo Che chiaramente sono dei video Molto più scialli E di contenuto Meno profondo Ovviamente all'interno della settimana Essendoci due volte Questa tipologia di video Cercherò di dare Una sorta di equilibrio Cioè Se ho caricato Le team reversed Il venerdì La domenica È molto più probabile Che esca un concept analysis Piuttosto che Il baretto di Creepy Questo per darvi un'idea In sostanza Bilanciare un attimino Comicità O comunque leggerezza E serietà O pesantezza Che poi non dovrebbe essere pesante Però So che la gente Lo ritiene pesante Quindi PESANTEZ Chiaramente signori La mia vita è molto movimentata Ho delle difficoltà strutturali A caricare i video Lo sapete Non ho la connessione qui a Bologna E non è detto che io riesca sempre A mantenere questa programmazione È una programmazione di base Che io voglio impegnarmi A rispettare Ma ovviamente capirete Che qualora Dovessi avere un problema Dovessi prendere un treno E andare Dall'altra parte dell'Italia Non sarà possibile Mantenere questa programmazione Io ci proverò Nel caso Io vi invito A seguirmi su Instagram Ma tanto so Che voi che mi seguite qui Mi state seguendo tutti su Instagram In cui Nel caso dovessi saltare Delle pubblicazioni O comunque Non avessi la possibilità Di caricare un determinato video Ve lo faccio sapere E la chiudiamo lì Detto ciò Io credo di aver concluso Vi ho detto tutto Vi ho detto anche del baretto di Luminopoli Anzi vi dico già che cos'è Visto che ci siamo Sarà una serie che vuole trattare Di attualità Pokémon Ma non in stile Pokémon News Magari parlando Non solo Delle tematiche nuove Riguardo a Pokémon O solo delle news Ma dando anche spunti di riflessione Riguardo alle novità E una cosa che mi piacerebbe fare Ma vorrei Che non si triggerasse la gente È parlare un po' Della community di Pokémon Cioè essendo che la community È molto ristagnante Siccome qualche idea Interessante Di format A volte viene fuori Ho pensato Che magari In questa serie Di attualità Pokémon Potrei anche tirare in ballo Qualche nuovo format particolare Della community italiana Per parlarne un po' E vedere un attimo Che cosa Ne pensate voi Però questa qua È una cosa che si vedrà in futuro Detto ciò Noi siamo già tantissimo Questo video è venuto più lungo Del previsto ma me lo aspettavo Io non vi chiedo di lasciare un mi piace Perché non vedo perché dovreste Se volete ovviamente lasciatelo Non mi offendo Commentate qui sotto Non so cosa dobbiate commentare Questo video informativo Non so se ti sei Se sei su questo canale Non iscriverti adesso Guarda un altro video Poi ti iscrivi Però vi invito a passare dai social Quelli sono fondamentali L'ho già detto Mi raccomando Per seguire Passo per passo La mia esistenza In questo universo E ovviamente La campanella Se non l'avete ancora fatto Per ricevere ogni giorno I feed Ora faccio la battuta In cui dico No non li manda i feed E la cosa triste È che non è una battuta Non li manda Vero Detto ciò Io spero che questo video Sia venuto tecnicamente bene In generale Perché ho cambiato Un attimo setup E noi ragazzi Ci becchiamo In un prossimo Video Ciao 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 Ciao